Voglio lasciare una parola che si trova in Efesene 4, 25. Perciò, deposta la mezzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo perché siamo membri gli uni degli altri. 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per le edificazioni secondo il bisogno, 30. Dittela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano, e non contristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. 31. Si è rimossa da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore, maldicenza con ogni malizia. 32. Siate invece benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. 33. Allora, qui la parola di Dio dice che dobbiamo sempre parlare la verità al nostro prossimo. 34. Dice anche che nessuna parola malvagia esca dalla nostra bocca, solo parola buona per le edificazioni, per rendere grazia a quelli che ascoltano. 35. Dice anche che dobbiamo essere benigni e misericordiosi e perdonare come Dio ha perdonato a noi in Cristo Gesù. 35. Voglio lasciare questa parola e invito i miei amici a fare questa sfida.